Amici di Tele1, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il nostro consueto spazio informativo. Oggi non abbiamo ospite studio un consigliere eletto o rieletto in seno alla massima assise regionale, ma un altro graditissimo ospite rappresentante istituzionale di questo territorio, la senatrice Rosa Silvana Abate. Grazie senatrice per aver accolto il nostro invito, in realtà la senatrice è un volto e un nome noto non soltanto alla cittadinanza e al territorio, ma anche alla nostra famiglia di Tele1. Noi ogni giorno, perché lei è prolifica appunto di comunicazioni al territorio, quindi noi ne diamo notizie nel Tg quasi con cadenza quotidiana, ma poi spesso, lo abbiamo fatto anche mesi fa, illustra appunto la sua attività istituzionale, che dobbiamo dire è su più fronti, non si limita ad un solo ambito, ma è su più fronti appunto per il territorio. Senatrice, allora grazie, partiamo da una considerazione se mi permette, si apre una nuova fase diciamo anche a livello regionale, la sua è una presenza gentile, nel senso che è determinata, ma è sempre stata protesa ad avere proficui rapporti istituzionali, da quelle che sono le forze dell'ordine, a quelle che sono le amministrazioni comunali, a quelli che sono i vari rappresentanti a ciascun livello. Un ospicio anche diciamo a questa nuova regione che verrà, pur se dalla sua particolare posizione politica, perché lei sappiamo è il gruppo misto, quindi diciamo non si rifà nessuna forza politica al momento. Grazie per l'invito, io vengo sempre volentieri perché comunicare con la cittadinanza e con tutti quelli che hanno avuto fiducia e quindi mi hanno affidato questo mandato per me è di fondamentale importanza. C'è qualcuno che ogni tanto fa la battuta, che faccio troppo comunicati, però è meglio farne troppi e comunicare realmente la situazione, lo stato in cui viviamo e tutto quello che faccio e che naturalmente si può fare, si potrebbe ancora fare. E quindi anziché non farne proprio e creare una frattura con il popolo, con la cittadinanza che ci ha eletto. Personalmente ringrazio anche te perché sei uno che sa fare il proprio lavoro, con grande professionalità, con grande oggettività e quindi con grande professionalità appunto. Sì, io cerco questa nuova regione, colgo l'occasione per fare gli auguri perché ancora non l'ho fatto a tutti i consiglieri comunali, al Presidente, a tutta la nuova amministrazione regionale. Con l'auspicio veramente che si possa lavorare unitamente, al di là di quello che sono le provvedienze politiche, la colorazione, per questa Calabria. La Calabria che è una terra difficile, è una terra amara, io la definisco spesse volte in questo modo, ma che come sappiamo ha delle grandi possibilità e delle grandi capacità. La mia collaborazione istituzionale è nota, io penso che solo se ci si siede intorno a un tavolo si discute e devo dire che la mia esperienza è positiva, perché al di là, diciamo, degli enti, delle istituzioni, delle varie provenienze politiche, quando sono andata a trattare un tema, io ho trovato sempre grande disponibilità, grande gentilezza, grande, diciamo, accoglienza e colloquio. È chiaro che ci sono anche le eccezioni, ma anche quelli sono superabili, perché se si parla di temi, del bene comune, dell'evoluzione di un territorio, ci si incontra. Bisogna però sedersi ai tavoli, collaborare con onestà intellettuale, liberi da qualsiasi pregiudizio, e sicuramente i risultati arrivano, o almeno io i miei piccoli risultati li ho raggiunti. Senatrice, infatti, a lodare proprio anche la sua azione sinergica di collaborazione, di presenza fattiva, non soltanto fisica, ma anche morale, è stato nei giorni scorsi, proprio presso il porto di Corigliano Rossano, anche il presidente dell'autorità del sistema portuale dei Mari Tirreno e Meridionale Tirreno e Ionio, la Milaglia Costinelli. Lei era presente a questa famosa conferenza stampa, eravamo presenti anche noi, che un po', fra virgolette, suonava come propositivo ultimato, ma anche all'amministrazione comunale di Corigliano Rossano, per giungere alla realizzazione di questa fatidica banchina croceristica, quindi non va a disperdere questo cospicuo finanziamento di 12 milioni di euro, se non erro. Sappiamo poi che c'è stato un incontro con il primo cittadino a Gioia Tauro, se può farci il punto non soltanto di questa situazione, ma anche di tutto quello che è afferente il sistema portuale, perché sappiamo che lei è costantemente impegnata su più fronti per ciò che riguarda questa importantissima infrastruttura che è da volano di sviluppo per il territorio. Sì, diciamo che del porto me ne sono occupata immediatamente, sin dall'inizio del mio mandato, perché? Perché essendo nella Commissione Agricoltura e Pesca naturalmente, ho chiesto ai pescatori di cosa avessero bisogno e loro mi chiesero, noi abbiamo bisogno del candiere della Laggio Edvaro, perché nel momento in cui dobbiamo fare manutenzione alle nostre barche, ai nostri prescherecci, anche di considerevole dimensione, siamo costretti ad andare fuori con tutto il disagio che ci crea. È chiaro che immediatamente mi sono messa un pochino a capire la situazione del porto e ho trovato una situazione direi paradossale, ho trovato un porto che non era delimitato, quindi sostanzialmente a tutt'oggi non si sa dove finisce il porto e dove ingomincia. E quindi con una carenza di incameramento di tutti quelli che erano i beni, quindi ho cominciato ad andare a ritroso e mi sono resa conto, andando alla Capitaneria, che erano anni che si cercava di sbloccare questa situazione, ma nulla si poteva fare perché mancavano i documenti, documenti che venivano ripetutamente chiesti all'amministrazione comunale, ma che erano anni che l'amministrazione comunale era reticente, cioè questi documenti non venivano trasmessi alle Capitanerie. Quanto è che io ho cominciato a parlare del porto sin dall'inizio del mio mandato e poi si fece il punto quando venne Toninelli, perché io portai qui Danilo Toninelli, l'ex ministro del MIT, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a febbraio del 2019. In quella circostanza, siccome io sono una che insiste molto, mi fecero l'eccezione, mi fece il ministro l'eccezione di partecipare al tavolo tecnico, perché la deputazione parlamentare non partecipa ai tavoli tecnici e in quella occasione ho conosciuto adesso presidente dell'autorità portuale, ma allora era commissario, che mi confermava che il porto era in quelle condizioni. E all'epoca mi disse anche che c'erano 400 mila euro destinati lì al porto e quindi immediatamente io chiesi l'illuminazione e l'acqua potabile, perché su alcune panchine non c'era, o non c'è ancora, ma i lavori adesso si stanno completando, né l'acqua potabile né l'illuminazione. Quindi in quella seduta noi cominciamo a pianificare tutta un'azione che adesso ha portato, non mi voglio diluncare, a avere una procedura di incameramento, ma prima ancora di delimitazione, alle battute finali. La maggiore difficoltà che io ho avuto è stata studiare le carte, infatti con la Capitaneria di Porto abbiamo, diciamo, raccolto quattro fascicoli di documenti e reperire i documenti. Gli ultimi documenti, che erano delle concessioni e tanti altri documenti, sono riusciti a reperirli al genio civile presso la regione, che quando chiamai il funzionario, sempre gentilissimo, ricordo questa frase e lui mi disse, senatrice, ricordo vagamente di un porto di Corliano, devo andare a vedere nell'archivio se ho questi documenti. Si era preso una settimana di tempo, dopo quei giorni mi chiamò e mi disse, senatrice, ho trovato i documenti, documenti finali che non ero riuscita a reperire da nessuna parte, avevo chiesto alla Lega Navale, al genio civile e poi presso la regione, al genio civile ho trovato questi documenti e siamo alle battute finali. Dopodiché si inserisce la banchina croceristica, questo finanziamento di questa banchina croceristica, con tutto quello che sapete. Le eccezioni, quello che io dico e ripeto a tutte le istituzioni, a me per prima, si fanno seduti ai tavoli, cioè se arriva un'autorità portuale, se arriva un ministro, se arriva un sottosegretario, tutta la rappresentanza, la deputazione parlamentare si deve sedere a quei tavoli e si deve portare avanti che cosa? Non interessi personali o beghe personali, l'interesse del territorio, l'interesse dei cittadini, lo sviluppo di questo territorio. Io ho trovato qui un territorio abbandonato, un porto in queste condizioni, i treni che ce li avevano tolti, di sanità sappiamo com'è, ma non ne parlo perché non sono competente, perché il problema qual è? È quello che fare politica non è solo venire qua, fare le interviste, andare in giro per i territori. Fare politica significa studiare, affrontare le pratiche, il porto, la 106, la ferrovia e studiare anche tutto ciò che è stato fatto perché capire il perché si è bloccato, il perché è arrivata ad un certo punto questa sibaritide, non esisteva più, perché non esisteva più una terra mortificata, svenduta, priva di servizi, sconosciuta e quindi a quel punto andare dalle istituzioni, ma non, io non vado a chiedere, io porto delle relazioni con lo stato attuale, con dei numeri, con le richieste e su cosa vengono basate queste richieste? Dopo mi faccio ricevere perché andare lì a chiedere o a deliemosinare non è giusto, assolutamente, noi abbiamo dei diritti, abbiamo dei doveri, ma abbiamo dei diritti di avere in questo lembo di terra gli stessi servizi che si hanno forse anche in altre parti della Calabria, ma voglio dire proprio in altre parti dell'Italia, che tutti dovrebbero avere. Quindi questo è il punto, studiare, reperire i documenti, ricostruire e poi andare dagli enti preposti, che a me aprono sempre la porta, sono sempre collaborativi, e risolvere la questione. Non conosco altri metodi. Senatrice, accennava la 106, capitolo sempre eterno, si spera invece adesso che ci si avvii ad una fase celere, efficace, definitiva. Sappiamo il suo impegno su questo fronte, io ho fra virgolette pungolato il sindaco di Corigliano Rossano, ingegnere Stasi, qui nei nostri studi qualche giorno fa, proprio sui rapporti che ho definito affettuosamente, dal punto di vista personale rispettoso, come giusto che sia. Però di questi dissidi, che sono anche poi spesso sugli organi di informazione, con la senatrice Abate. Perché? Perché ho detto che la senatrice Abate ha, lo ha anche, fra virgolette, richiamato dal punto di vista istituzionale, in una nota della quale noi abbiamo dato notizia anche nel nostro Tg, come unico sindaco rispetto a tutti quelli del territorio complesso, da Crotone a Sibari, lei ha scritto testualmente. Ecco, cosa bolle in bendola per l'agenda 6, soprattutto, qual è lo stato di salute della situazione attuale di questa infrastruttura che ormai attendiamo da tanto tempo? Da troppo tempo. Allora sì, anche qui voglio, insomma, cominciare dall'inizio. 106 ne fu discussa anche in quella circostanza con Danilo Toninelli, l'allora responsabile regionale dell'ANAS. Però prima ancora la deputazione, tutti quanti, comprese quindi la deputazione Corliano-Rossà, in più i due di Crotone, le due colleghe di Crotone, eravamo andati già all'ANAS, quindi a sviluppare questo, a capire la situazione. In quella circostanza, incontro con Toninelli, io appresi che c'era un vecchio progetto delle varianti ed erano allocati su quel progetto già 192 milioni di euro. La mia preoccupazione qual era? Era quella di, se qui non ci spieghiamo, prendono questi soldi e li portano al troppo. Ma non è questo, perché qualcuno potrebbe dire il fatto che ci tolgono i soldi. No, non è questo, non è assolutamente questo, perché i soldi della 106 sono vingolati da un codice di candiere e quindi restano là. Si rifà praticamente, comincia quest'iter di questa 106 e si ridiscute tutta la progettazione. In base a quello che sono i principi anche dei costi e dei benefici, si lasciano tutti quei progetti che salivano a monte, quindi con gallerie, scempi ambientali inenarrabili, ma qualche testimonianza noi ce l'abbiamo, e quindi si cerca di avere un progetto che sia il meno impattante e che comunque possa risolvere l'annoso progetto della 106. Sarebbe troppo lungo adesso. Arriviamo a questo progetto che propone l'ANAS, un progetto che scorre lungo la fascia di rispetto della ferrovia e che scorre soprattutto in pianura, cercando di evitare, che cosa? Quelle zone altamente urbanizzate, urbanizzazione che esiste per esempio anche sulle zone dove non doveva esserci, rispetto al PRG, anche di Corleano e di Rossano. La 106 è costretta a fare una pancia, diciamo, per bypassare tutti quegli edifici, di questo ce ne eravamo occupate anche con Zapia, abbiamo trovato addirittura delle infrastrutture pubbliche su questo PRG, dove non dovevano esistere, dove erano previste strade di previsione o quant'altro. E quindi con le adeguate varianti. Discutiamo il progetto, viene anche il sottosegretario, naturalmente il sindaco della mia città è quello che deve dare, diciamo, che si deve sedere, perché io non sono competente, diciamo, istituzionalmente. È lui la persona competente a sedersi con l'ANAS e discutere di questo tratto. Si sollevano una serie di eccezioni. La prima eccezione è, da quello che ho sentito dire, che questo progetto andrebbe a pregiudicare poi il raddoppio del binario. Ma non è così, perché la fascia di rispetto esiste anche dall'altra parte, quindi se noi su una fascia di rispetto facciamo la 106, sull'altra si può raddoppiare il progetto. Anche perché, insomma, lo sviluppo ferroviario della Calambria, per progetto dal PNRR, prevede un'alta velocità, che è baricentrica, dunque praticamente si abbandona questa linea, noi andremo a prendere l'alta velocità a Tarsia, quindi, però si può sempre raddoppiare, almeno questo è quello che mi hanno detto i tecnici, ma è così perché la fascia di rispetto esiste. Si richiede una partecipazione di Ferrovia dello Stato, ma c'è stata, perché siccome il progetto della 106 corre lungo la fascia di rispetto, è chiaro che l'ANAS ha collaborato con Ferrovia dello Stato. Quindi quale potrebbe essere l'altra eccezione? L'attraversamento delle zone urbane, i tunnel. A Corliano noi non abbiamo problemi, perché? Arrivato allo scalo, fa una pancia, evitando di interferire con le abitazioni che ci sono, scorre fin dove può scorrere, intercetta Santa Lucia, c'è la rotatoria, la bretella che va al porto, cosa importantissima, e poi piano piano ritorna sulla Ferrovia. È arrivato a Rossano e il sindaco vuole il tunnel. Ma sediamoci, chiediamo tutto quello che dobbiamo chiedere all'ANAS, però non la perdiamo l'occasione, perché sostanzialmente, e ribadisco quello che dico. Questo progetto è stato accettato da tutti i sindaci, tutti i sindaci hanno condiviso questo progetto da Crotone, mi sembra che la condivisione fra dei sindaci di mandatoriccio a Crotone è avvenuta la settimana scorsa. Hanno dato tutto parere favorevole. L'unico sindaco resta il nostro. È così, purtroppo, compreso quello di Cassano. E l'anno, hanno dato l'adesione, alcuni facendo già una delibera per derogare il dibattito pubblico. Perché non è tanto accettare l'osso che ci langiano. È perché adesso esistono anche delle deroghe, tipo per esempio la deroga al dibattito pubblico, che noi abbiamo fatto col semplificazione del 2020. Nel 2022 questa deroga non esiste più, decade. E allora, avere in questo momento una deroga del dibattito pubblico significa guadagnare almeno due anni. Ma questo non significa fare uno scempio all'ambiente, perché chi mi conosce sa che io nasco ambientalista esattamente come il sindaco. E quindi, anziché andare a smembrare colline, fare viotti e spendere. Sì, ma noi dobbiamo, devono spendere, non necessariamente. Perché spendere i soldi pubblici significa spendere i soldi dei cittadini. Si spende se il progetto è un progetto meritevole, è un progetto che può risolvere il problema. E questo, a dire dei tecnici a cui mi sono rivolta, perché il sindaco poi c'è una struttura, c'è un ufficio tecnico, può valutare. Io mi sono rivolta a dei tecnici e mi è stato confermato che questo è un progetto tra i migliori che potevano essere presentati. Poi è vero che la responsabilità è del sindaco, è vero, però consideriamo, e qui è una piccola nota che voglio lasciare, consideriamo che la 106 è commissariata, ma non è commissariato il terzo megalotto, perché quello è fatto. È commissariato noi, con il decreto Genova abbiamo nominato, il governo ha nominato dei commissari sulle opere impantanate. La 106 era un'opera impantanata e quindi da Sibari a Crotone è commissariata. Questa significa che qualora io vado a chiedere la luna, il commissario può dire la luna non te la do perché io non sono qui per darti la luna e realizzo l'opera. Senatrice Saustiva, come sempre io sapevo che gran parte del nostro tempo a disposizione sarebbe stato dedicato a questi argomenti a lei cari, cioè Porto e 106, però le devo fare, ecco, avviandoci alla conclusione di questa nostra discussione non posso che chiederle due argomenti in estrema sintesi se possibile. Uno, sappiamo oltre che alle infrastrutture, tema a lei molto caro, quello dei trasporti e della mobilità. Ricordiamo anche il suo appello quando l'allora governatore Oliverio a Corigliano, alla stazione ferroviaria di Corigliano Scalo, inizio dei lavori, questa sua costante attenzione sulla benedetta elettrificazione della ferrovia ionica, quindi le vorrei chiedere anche Lumi se ci sono novità su questo punto perché noi proprio nelle scorse edizioni abbiamo anche dato notizia, non c'entra niente, però glielo dico perché io ricordo il suo impegno civico, sempre come donna, come ambientalista, prima dell'impegno parlamentare. Noi abbiamo dato notizia in questi giorni di una bella iniziativa promossa da Trenitalia di prevenzione ongologica femminile sui treni proprio tra Cosenza e Reggio Calabria, proprio in questi giorni, quindi anche il treno non soltanto come strumento di, come mezzo appunto di mobilità per muoversi, ma anche appunto col binomio tutela della salute. Quindi una domanda è questa sui trasporti, l'altra invece, tema lei caro perché lei è appunto Commissione Agricoltura del Senato, ce ne siamo anche occupati più volte, inizia una nuova stagione agrumicola, è già iniziata, l'importanza di difendere i nostri prodotti anche perché si riaffacciano sempre puntualmente prodotti contraffatti. Assolutamente sì, lei ha toccato un nodo fondamentale però per i trasporti, il trasporto regionale. Io invito i consiglieri regionali, cioè la 106 è pianificata e mi prendo anche tre anni di lavoro sulla 106, il porto anche perché siamo alle battute finali dell'incameramento, poi ci sarà l'incameramento, poi alla Gevaro e la panchina corgeristica è una piccola rifinitura che devono fare il sindaco e il presidente. Quindi possono anche evitare di accalcarsi su questi progetti. Si devono occupare per esempio, basta scorrere anche un pochino l'articolo 117, consiglio a loro di leggerlo, ci sono le competenze regionali, devono lavorare su quei, devono iniziare i lavori, trasporto regionale perché è vero che adesso c'è la promozione oncologica ma lì viene l'ulcera. Per esempio possono lavorare anche sul piano rifiuto, sul piano energetico, il dissesto idrogeologico. Quindi io invito i consiglieri comunali di affrontare e cominciare da capo come ho fatto io con questi due argomenti e poi arriveranno a questo. Trenitalia è una società molto sensibile, però ecco c'è il grosso problema del traffico regionale perché i nostri pendolari sono disperati sulla fascia ionica, poi hanno tolto tutto. Agricoltura due battute. Allora io con l'agricoltura mi dispiace che non posso fare più riunioni con gli agricoltori, però ho portato avanti un affare assegnato con una risoluzione che ho cercato di diffonderla attraverso i social ma lo devo spiegare. Quindi catastrogrumicolo, politiche per l'aggregazione, ricambio viare tale perché abbiamo le variazioni climatiche che stanno mettendo a dura prova tutto quanto. Ho un disegno di legge che adesso in discussione, in commissione, finalmente siamo agli emendamenti, mi mancano i pareri di altre due commissioni, per tutelare il costo di produzione. Il produttore deve essere tutelato e si innesta con le pratiche commerciali sleali la direttiva 6 e 33 del 2019 che purtroppo devo dire, infatti uscirò in questi giorni con un articolo, purtroppo in Italia la stanno svuotando. Noi hanno dato un parere vergognoso nella mia commissione che va ad introdurre una serie di regole, di deroghe e mi auguro che il governo non le accolga che vanno a svuotare questa pratica commerciale sleale. Ma lei ha accennato non solo dei prodotti contraffatti che ci sono, in questo momento stiamo discutendo sul Prosec, quindi il problema è che cosa? I prodotti che vengono da fuori. Nella crisi agrumicola determinanti sono i prodotti che entrano nell'Africa. Allora io, proprio oggi stiamo lavorando, sto lavorando, a un invito al ministro Patuanelli, al ministro dell'agricoltura, ad affiancarsi ai suoi colleghi europei e in particolare al ministro della Spagna, che sta chiedendo in questi giorni perché si sta rivedendo il trattato con l'Africa, di inserire delle regole ferree ed evitare che qui in Italia entri di tutto dall'Africa. Quindi non solo entrano agrumi che vengono trattati con dei medicinali che qui in Italia sono vietati, ma fanno sì questi agrumi che portano in Italia delle patologie, delle fitopatologie gravissime. Quindi io adesso sto proprio formalizzando l'invito al ministro Patuanelli di chiedere all'Europa di andare a rivedere quello che è l'accordo con l'Africa, perché si sta trattando a Bruxelles questo accordo e c'è tempo fino al 4 novembre. Quindi ho anticipato quella che sarà la mia prossima richiesta al nostro ministro. Gli agrumi sono particolarmente attenta, quindi se viene, diciamo, dal governo vengono fatti i decreti per confermare la risoluzione che è venuta fuori dall'affare assegnato. In più il mio disegno di legge che assicura ai produttori il prezzo, il costo di produzione. Se io spendo per coltivare, per produrre un chilo di clementine, 30 centesimi, tu non me lo puoi pagare a 20 centesimi, perché io pago su tutta la filiera una cambiale che poi a lungo andare non mi fa più, non mi fa sopravvivere la mia azienda. E questa è una cosa che sta andando avanti, con molta fatica, perché naturalmente pesto i piedi a chi ha i grossi gruppi, alla GDO, alla grande distribuzione organizzata. Però volevo, ecco, vorrei e mi auguro, perché questo Covid ha naturalmente, come dire, modificato la nostra esistenza in peggio, avviare una serie di incontri con gli agricoltori per avere questo tipo di interlocuzione. E forse anche per spiegare bene qual è il mio lavoro, perché l'agricoltura può sembrare un argomento semplice, ma non lo è, perché le politiche sull'agricoltura partono dalla comunità europea, attraversano solamente la parte governativa e poi approdano alle regioni. E quindi è una materia molto complessa. Ho iniziato questo giro, diciamo, questo incontro con gli agricoltori. Il 25 sarò in Emilia-Romagna perché mi hanno chiamato gli agricoltori per avere un incontro, in quanto c'è una forte crisi della filiera ortofrutticola. Purtroppo c'è un calo dei consumi, in più c'è questa provenienza massiccia di quella che è la produzione estera. E quindi cominciamo un pochino a fare il punto della situazione e subito dopo intenzione di incontrare gli agricoltori, i produttori, diciamo, delle imprese agricole della Calabria, anche per zona, e cominciare con loro a fare il punto di quello che è stato il mio operato in commissione e vedere un pochino come uscirne da questa grave crisi che vede al primo posto anche le variazioni climatiche. Senatrice, purtroppo il tempo è sempre tirato a nostra disposizione, in questo momento è terminato. Ci congediamo con una battuta flash, se me lo congede. L'imbegno civico, civile e politico della senatrice abbatte, partendo da un Ginguestelle che lei adesso è reputa per causa di forza maggiore, snaturato rispetto a quelli che sono stati, mi consentirei il termine, i motivi ispiratori iniziali, sappiamo appunto della sua avversione al governo Draghi, proseguiranno sotto forma di gruppo misto oppure un domani potranno sfociare in altre forme associative? Allora, io le posso dire la situazione attuale, quello che sarà, se ci sarà un futuro progetto nel quale io entrerò, un progetto che condividerò, questo non glielo so dire. Sicuramente, arrivato ad un certo punto, non ho ritenuto più seguire la linea del Movimento 5 Stelle, così come i miei colleghi di Corliano, in occasione della fiducia a Draghi. A quel punto noi sapevamo a cosa andavamo incontro, perché da regolamento se non si vota una fiducia si è posto fuori dal gruppo, ma noi l'abbiamo fatto perché io ho sempre detto, mi è stato chiesto di votare l'antitesi del Movimento 5 Stelle. Quindi io ritengo di aver rispettato il mio mandato dicendo no a questo governo, che purtroppo contesto ogni giorno e che mi sta procurando in tanti di noi grave sofferenze, così come per esempio la riforma Cartabia. Io è vero che in questo momento mi occupo di agricoltura, però insomma faccio l'avvocato, sono un avvocato e quindi anche quel tema mi è particolarmente sensibile. Quello ha costituito un grandissimo punto di verifica, quindi sconfermo il mio no a questo governo che mi ha portato fuori dal Movimento 5 Stelle. I principi politici per me restano solo ed esclusivamente quelli per i quali è nato il Movimento 5 Stelle. Senatrice, grazie. Naturalmente torneremo a confrontarci prossimamente su tutto quello che è il proseguo dell'attività istituzionale, anche con maggior calma. Grazie alla senatrice Rosa Silvana Abbate, come sempre buon lavoro e grazie a tutti voi. Grazie a tutti i telespettatori e grazie ancora a voi per avermi dato la possibilità di esprimermi. Grazie a tutti i nostri spettatori